Capiamo subito perché sono sbagliate il pensare di uscire e colpire. L'avrete forse visto mille volte, se avete fatto almeno una lezione di Thai Box, io l'ho visto fare mille volte, poi però vedi che in gara non lo fa mai nessuno perché sono assurdità. Avrete visto mille volte, tirami ancora il jab, fare gesti del genere. Cioè chi insegna un movimento del genere che piace molto ai principianti, sta immaginando che questo gesto, cioè il jab che lei mi tira, sia così lento o io sia più veloce, cioè che lei fa questo colpo, bam bam, e io lo veda perché lo devo riconoscere, perché lei avrebbe potuto fare quest'altro colpo, o magari quest'altro colpo, o magari un calcio, quindi io devo riconoscere quel colpo, quindi deve essere almeno iniziato a partire quel colpo, e devo intercettare e andare a colpire prima che lei lo richiami. È impossibile, è impossibile. Diverso è che può succedere anche nel sandà se già sei a contatto, o se vai a cercare il contatto, a prescindere se ti tira il pugno. Ma è impossibile vedere il pugno e fare questo gesto e la persona rimane così. È possibile perché ecco, Francesca adesso sta rimanendo qui. O è impossibile che tirano un pugno, tu fai la schivata e colpisci e la rimane là. È impossibile perché, per quanto una persona possa non essere preparata, questo gesto così ci vuole meno di un decimo di secondo. Cioè, se voi potete cronometrarlo, questo gesto qui ci vuole un decimo di secondo, come quindi questo. Meno di un decimo di secondo. Dovete sapere che il tempo di reazione di una persona normale o di un atleta è proprio un decimo di secondo. Cioè che, se lei inizia a fare un movimento, io, se inizierò a muovermi quando vedo quel movimento, ci metterò un decimo di secondo, almeno, per attuare una reazione. Cioè per dire, oi bo, sta arrivando un pugno. Ecco, un decimo di secondo ci metto. Quindi, mettendo che lei vada lenta, cioè che metta veramente per intero un decimo di secondo, e non un po' di meno, e mettendo che io lo veda quasi subito quel movimento, nel momento in cui lei parte, io lo noto, nel decimo di secondo che voglio fare il mio movimento, lei è già arrivata. Per chi avrà un ritardo di un decimo di secondo, quindi è impossibile cosa lei fa in questo tempo, quello che io faccio in ancora meno tempo andare qua. È impossibile. Come si può fare? Si può fare in palestra, quando i due sono d'accordo. Sì, io già lo so, è ok. Cioè, in quel gioco famoso che, in cui, noi ci mettiamo così e lei mette le mani, e provi sopra le mie, quello di mano rossa, e lei dovrebbe provare a levare, sei pronta a togliere le mani quando io mi muovo? Sei pronta? È impossibile. Perché? Perché seppure io devo fare tutto il giro, e lei deve solo togliere, questo ci vuole un decimo di secondo. È impossibile. In quale caso? Però, giocando a quel gioco mano rossa, lei riuscirà a togliere, tutti ci siamo riusciti almeno una volta, quando casualmente, lei mi deve dare il colpo, anzi, facciamo io lo devo dare a lei, casualmente lei crede che io stia per partire. E quindi leva la mano. In quel momento, veramente, io stavo per partire, quindi do il colpo, ma lei già non c'è più. In quel caso è possibile. Ma nel combattimento, solo un esperto prevede quello che tu stai facendo, inutile mettersi lì e aspettare che lei tiri quel colpo. Impossibile. Vai, schivate il diretto destro, bravo Alfredo, schiviamo bravo Luca, ruota il piede dietro Luca, non lo lasciare così. Quando vieni, bravissimo. Calci e pugni, benissimo, tre colpi e mi sposto, cinque colpi e mi sposto, tre colpi e mi sposto, cinque colpi e mi sposto, bravo Ludovico. Forza, bravo Alfredo, mi devi mantenere sto ritmo Alfredo, mancano dieci secondi. Vuoi imparare a combattere e vincere nel sandà? Ciao, sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club. Ho vissuto per 26 anni dentro la mia palestra, perché volevo diventare il migliore nella mia disciplina. Sono conosciuto infatti per aver vinto 106 incontri e per essere quindi l'atleta più titolato in Italia nel sandà a contatto pieno. Vuoi sapere come ho fatto? Unisciti ai miei studenti, fai una lezione gratis con me, datti questa opportunità. Clicca il link che trovi in descrizione.